In gru' di neve si approfondimenti e ci sono questo nef numero della Ush di Ladins. Questo numero 36 è vero che fieste già menci per i 600 anni della Gesia, con sacco tanta manifestazione e in c'è la pubblicazione del Liber per Ladin. Tacca dalla Pruma Piata in c'è il convente formazione per giornalisti sulla storia del popolo Ladin e si mesi da informazione. Tela attualità le ha un contributo di Giampaolo Orasom de Onze sulla situazione del Bosch. Da poi l'interrogazione del conseglier Guglielmi, la scommenzativa curiosa del Comun General de Fascia e il progetto per insegnanti e studenci che veita una Comun General e scuola. Un bel gru' di sostegnitore e se amiche dell'associazione sportiva si abbinà per il scomenso ufficiale della Saison dei Hockey. L'Istituto Culturale di Incesa de Jeanne mette a girare un incontro per ricordare tre avvenimenti importanti che croda quest'anno. Le ducze verte che a livello amministrativo per taccare all'urera ciò che si è ducato a posto per i mondiei 2021. La comunità des de Alplane della Plì de Mareo taut cumiadasi e piovani con grana incresciusum e un bel devel pai. Della piatese de Fascia uttonfora il scomenzio del nefande scuola con la sorastanta Mirella Florian che porta dante neves e prosegge. E tacconeci con la uscola della scuola. I studenti ne contano sia se temene linguistiche stile irlanda e della Germania. Dopo d'odas ho un conto dell'incontro stati di Biblioteca dei Vic con la poeta Badiotta e della pruma rassegna in drezziada dal coronos del Soraga. A pede le la rubrica sul guante di Claudia Conta che è quest'autore zona del becchetto. Le ducano appiata sulla decisione della Cater Bandieres del Fascia Ballon che da quest'anno si tirerà più ite la maia per siero. Fini un col appuntamento storico e identità per la gara tainci col cattivitempo col cedean del caissata autofascia e con la soluzione del retratso sulla uscola della settemana passeda. Teresport reso non deroda da Mont col mudamento del programma che ha permetuto di metter a girare la gara geda e con gli atleti del Cesa che invece esiste il Lazio. Reso non ence della società da Soraga che si ha classificato a Pruma del circuito dei minibike. Da Podole la convocazione del Comitato Trentino in vista della neva a Sazion di Schicross che vette in cedò i fascini. E la venta della Pruma Squadra di Balonte è la partita che attacca il campionato. Sulla uscola di inso ogni vender potete trovare la neve seduta alla ladigna. Per info e abbonamenti potete viaggere alla redazione di fascia sul Stradona Saint-Jean Telefon 04 C2 76 45 45 Mail fascia Sulla uscola lausche.it Da adesso fin di Dezember l'abbonamento costa demò 30 euro. Lo schifo in Terladin legge online sul sito www.lausche.it o te la bottega e le schifo esde tutta la val. www.lausche.it